Sono partiti i lavori del primo stralcio per la riqualificazione e la valorizzazione della fascia costiera di Capaccio-Pestum, un intervento che riguarderà ben 3 km di litorale e che consegnerà finalmente alla comunità e ai turisti un lungomare atteso da anni. Siamo sulla fascia di Torania di Capaccio-Pestum, 13 km di fascia costiera. Questa amministrazione comunale ha messo in campo tante opere e ha già realizzato delle cose. Quella che più cambierà la qualità della vita della città, che potrà cambiare l'economia e cambierà la storia di questa comunità, senza altro metto al primo posto la riqualificazione della fascia costiera. Io già immagino questi primi 3 km dove vedo famiglie, bambini con le biciclette, un luogo illuminato, persone che si recheranno anche nel periodo non estivo a fruire delle nostre bellezze, delle nostre passeggiate. Si interviene su una fascia costiera dove abbiamo la fortuna di avere una combinazione miracolosa, un bosco sul mare, a Capaccio-Pestum si concretizza un sogno.